si mangia il pasto carabinieri 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 che buona che buona che buona o no so io aspetta beh bello l'albero bello assenta perchè gli sto tirando bello bello l'albero infatti ma di fatto fanno cagare e via guardo la telecamera i loro e via e via cazzo è fattoso vabbè da ultimo ma chi tu sei? ma chi sei il cantante fa l'ico del ah si aspetta il telefono ma a che ora si mangia? ma a che ora si mangia? a che ora si mangia? a che ora si mangia? ma di fatto fa cagare no aspetta aspetta si è dell'angolino aspetta eh ah suoi via vai aspetta eh si ma di fatto fa cagare e via ma suoi via e li hanno più belli si 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 ma mangia la pasta mangia la pasta mangia la pasta mangia la pasta è più vicino vai oh tu mi fa male aspetta eh ah no si così facciamo la capo ok come e tu fa male aspetta? una sc lite oh dog 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 duorpi di che? aspetta è un mire di orto duorpi aspetta aspetta è un mire di orto no qui ahahah ahahah no 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 aspetta è un mire di orto aspetta è un mire di orto guarda un dà è un mire ma dove tu li vedi? aspetta è ora che parto con altri aspetta mi diano sempre dicono una cosa sempre ah il trasporto no non ho partito tanto era un lavoratore eh un lavoratore ma poi quella famiglia non sono neanche sposato però ma poi per la famiglia ciac si ma poi per la famiglia guarda che famiglia non neanche sposato aspetta rifallo un secondo ho fatto ah ma di si ma di fatti fa cagare lo vedi troiaio? ma su amazon c'era meglio ballavello l'albero ma ballavello l'albero tu sei il primo guarda ma a noi questa è una punta è una punta non ci si viene all'albero siamo devoti proprio siamo devoti noi no aspetta ma io non ho sbagliato ma io devo guardare proprio in camera guardami qui proprio io sono qui eh no io guardavo in camera no rifacciamolo ciac gli hai preso gli hai preso aspettiamo gli altri comunque il puntale l'ho preso sull'albero ah sai che il bacino è vero è vero però aspetta ti riprendo dal di qua ah si è più bello se riesci che gli dai i baci dai 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 vai no a panna no 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 via no aspetta no no Anna no è la pezziaia ci fu più chiami figliola quest'anno diritto sì sì c'è figliola due 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 sei ma uno si fa prete che il lato è tanto devoto alla Madonna eh sì sì eh di faricare di faricare va bene sì vai oh che c'ha figlioli sì sì due due non hai uno eh sì sì a parte no non si può fare ma non so non so ricordate allora perché si muove lo sfondo se la semmo velo sfondo ah sì sì questa è una punta è le volte mostro tra l'altro pensi no pensa in queste palline qui queste gli erano di mi nonno e hanno un valore per me inestimabile io le tramanderò i miei figlioli poi loro hai loro è tutto